ciao benvenuto benvenuta nel mio canale io sono paola come letto delle immagini di copertina parliamo di come risparmiare sui giocattoli è già uscito da carpool la possibilità di avere il 50 per cento in buoni spesa da spendere su quello che vuoi in giocattoli e a uscirà la stessa identica cosa da bennett ma io penso che andrò a prendere giocattoli da bennett perché sia per far scorta per i compleanni e sia perché bennett nel periodo intorno al 10 12 di dicembre metterà un ulteriore sconto almeno l'ha fatto ogni anno speriamo anche questo anno ma io già ti faccio tutte le anticipazioni possibili e del metteranno i vecchi giocattoli scontati al 50 per cento che cosa vuol dire che un giocattolo che costa 5 euro tu lo trovi a 250 se ne prendi almeno due quindi vuol dire che prendendo due giocattoli paghi il prezzo di uno e su quello che tu hai speso quindi 5 euro ti verrà dato un buono pari al 50 per cento quindi in sostanza è come prendere due giocattoli a 2 euro e 50 o qualunque sia la cifra tutto quello che tu spendi in giocattoli da quando inizia la promozione bennett che dovrebbe iniziare a fine mese finché dura tutta la promozione ti verranno erogati questi giocattoli questi buoni sia da carpool che da bennett li puoi utilizzare su un minimo di spesa e quello del buono stesso per intenderci se tu vai da carpool e spendi 50 euro in giocattoli ti viene dato un buono da 25 euro dai il 25 euro è il minimo che tu puoi spendere successivamente nelle date indicate sul buono che ti verrà dato in cassa per prendere tutto quello che vuoi idem per quello che riguarda bennett se tu è identico se tu però vai in più volte e cumuli più buoni bennett sono sicura che ti li fa accumulare tutti tipo tu hai un buono da 10 1 da 5 un buono da 50 un buono da 20 quindi sono 35 85 euro tu puoi fare spesa per 85 euro e non pagare assolutamente nulla usando tutti i vari buoni ovviamente se prendi in più paghi la differenza se prendi in meno non puoi usare tutti i buoni perché il minimo è la somma di vari dei vari buoni sconto che ti vengono dati carpool sinceramente non so se li cumuli bene sono sicura perché io sono ormai diversi anni che vado da bennett a fare la scorta dei regali per almeno un anno un anno e mezzo di giocattoli per per i compleanni vari è vero che io anche action vicino casa però non hanno giocattoli magari di marca e posso magari fare un bel pensierino qualche bambino che i miei bambini hanno particolarmente a cuore quindi questo è di bennett ma di bennett di carpool ti aggiungo anche che ultimamente carpool lo fa sempre quindi da carpool sempre troverai sul sito dei buoni da usare o per andare a ritirare la spesa in negozio o per farti arrivare la spesa a casa io ti consiglio se tu fai la spesa online da carpool te la fai arrivare in negozio e vuoi comprare i giocattoli idem per bennett uguale e hai anche per bennett un buono sconto per la spesa e quel buono sconto è valido anche se tu fai la spesa online tu fatti la tua bella spesa online e la vai a ritirare comodamente il negozio nella giornata che preferisci nell'orario che preferisci ma ti ricordo di passare da best shopping che è un sito che ti ridà una percentuale di rimborso su quello che tu spegni determinati giocattoli che varia dal 0 5 per cento al 30 per cento dipende dal sito e questo percentuale di rimborso che ti darà best shopping la puoi tenere all'interno di un portafoglio virtuale da spendere per un totale di 2 euro per comprarti carte regalo cioè le gift card o su una somma totale di 40 euro per farteli dare o in ticket amazon oppure per fatela mettere sul tuo conto corrente come più preferisci non c'è solo bennett da best shopping non c'è solo carpool ma ci sono tantissimi altri supermercati anche per far la benzina in descrizione trovi il link del mio codice portamico che potrai avere anche tu volta una volta che ti scrivi usando il mio codice portamico o che ti scrivi indipendentemente grazie a tutti coloro che utilizzeranno il mio codice best shopping che è tantissimo che non lo dico quindi passa da best shopping vai a ritirare i tuoi giocattoli e fatti dare il buono di pari al 50 per cento poi se ti va bene che anche un buono che ti scala il totale meglio ancora questo bennett e questo carpool i per la grande i da dei buoni fissi che vanno da 5 euro su 50 o 10 euro su 50 adesso non mi ricordo fino a 25 euro su mi sembra 100 o 150 sai che non mi ricordo comunque te li danno in cassa ogni volta che tu in casa utilizzi la tua carta vantaggi ti danno questi buoni alla fine dello scontrino i denti danno dei buoni per risparmiare su quello che i prodotti per i personaggi quelli del presepe o le decorazioni dell'albero anche in questo caso il buono sconto cambia in base a ciò che tu prendi e ha un minimo di spesa dovrebbe essere 10 su 5 su 25 e a salire così via dicendo fino a credo 150 per le decorazioni per l'albero o per il presepe e puoi comprare se non mi ricordo male anche l'albero stesso poi euro spin i discount non fanno niente i discount a natale per riuscire a vincere o avere prodotti gratis danno la possibilità di avere i concorsi tipo te l'ho già pubblicizzato qualche giorno fa ma se te lo sei perso e lidl ha i oltre i car for days fino a natale a car for days i lidl days scusami i lidl days quindi ogni giorno ti dà una percentuale di sconto in più oltre a tutte le varie scontistiche che a lidl sia lidl che euro spin hanno un concorso interno comprando lidl dei prodotti chiamati deluxe per un minimo di 5 euro se tu hai sottoscritto la tua lidl plus la scarichi tranquillamente dal play store ti iscrivi ti registri tutto quanto ogni 5 euro di prodotti deluxe che sono quelli tutti neri con la scritta deluxe ti verrà data una partecipazione per provare a vincere buoni spesa o una macchina la destrazione finale la macchina in bocca al lupo a tutti invece euro spin dal 5 di dicembre dalla possibilità comprando dei pan dei panettoni o pandori quelli che sono anche loro tutti neri non ti puoi sbagliare ma sul sito di euro spin lo vedrai o anche il negozio lo vedrai pubblicizzato quindi non ti puoi sbagliare quali sono i pandori o il panettone comprandone almeno uno di quelli io ti consiglio se ne vuoi prendere più di uno di fare più partecipazioni andando sempre sull'applicazione di euro spin che scarichi gratuitamente sul tuo telefono metti i dati dello scontrino e scopri subito sei vinto o dei buoni spesa o una cena con uno chef o una 15 mila euro ben 15 mila euro per rifarti la cucina penny attualmente di concorsi non ne ha anzi addirittura ha finito la raccolta punti quella momentanea per avere i prodotti quelli omaggio md anche per ora non fa nulla ma penso che anche md si accodi al leader euro spin e quindi avrà un concorso interno natalizio e se lunga vedremo perché se non che sempre quella un pochino più tir che anche se se lunga si sta lanciando tantissimo nel mondo del coupon ultimamente infatti non so se hai visto io solamente a settembre vado a comprare da esse lunga il tutto quello che è cancelleria e materiale scolastico perché mi viene dato il 50 per cento in buoni da spendere su quello che voglio sulla cancelleria e materiale scolastico adesso non so se se lunga quest'anno inizierà a farla lanciarsi anche lei all'interno di questa raccolta di questa di questa iniziativa che ti ridà il 50 per cento o anche il 40 per cento di quello che spendi in in giocattoli non lo so dal 17 che oggi ne abbiamo 13 no scusami dal 18 tu lo vedrai il 18 quindi da oggi se hai risparmio casa vicino corri perché ci sono delle offerte che veramente sono imperdibili c'è il sottocosto su tantissimi prodotti c'è ad esempio la il sole a 1 euro 99 il bidone grande e l'altro non mi ricordo fosse il dash il bidone sempre quello grande ci sono i le salviette quelle dell'aggis e della pampers a 69 centesimi c'è veramente tantissima tantissima roba super low cost in più dovrebbe essere ancora attivo che io non sono più andata la promozione per avere i pupazzini che ti avevo già pubblicizzato quindi con mi sembra erano 15 bollini più un tot di spesa ti davano il pupazzo l'ho già pubblicizzato un po di tempo fa adesso così a grandi linee non me la ricordo però dovrebbe essere ancora attiva e la promozione di risparmio casa inizia il 18 per il periodo del black friday e per il periodo del black friday occhio ovunque perché avrai tantissime scontistiche sia anche da toys dovrebbe iniziare sia la promozione di natale sia quella del black friday in cui troverai tantissimi giocattoli super scontati perché è il periodo è quello ne cercano tutti di vendere il più possibile anche toys generalmente non so se quest'anno lo farà mette delle percentuali di rimborso su quello che sono i giocattoli in genere lo fa per carnevale non vedo perché non debbano farlo anche per natale quindi occhio a carnevale per il toys in genere ti danno uno sconto su quello che è il tuo il vestiario quello di carnevale e di halloween e se l'un euro spin leader ne abbiamo parlato penite ne ho parlato cop non credo farà nulla perché almeno nella mia zona non credo mentre conad credo che avrà un cupo avrà come ogni anno una promozione quella interna per far vincere qualcosa per natale in genere di quelli che ridanno indietro soldi per giocattoli sono quelli che hanno i negozi quelli della grande distribuzione che hanno giocattoli all'interno non assolutamente i discount quindi se vuoi risparmiare con quello sei un teddy o un action li risparmi tanto e credo che da action e da teddy adesso per il black friday faranno sicuramente qualcosa sicuro è il momento buono tra poco anche per il black friday per risparmiare su quello che gli elettrodomestici da un euro già è presente da troni è già presente ovviamente sono cose che decide il negozio quindi la scontistica è solo su determinati prodotti non su tutto e da amazon idem occhio ad amazon per chi sto tenendo d'occhio anche amazon perché voglio comprarmi la friggitrice quella che fa anche forno se riesco a comprarla te la farò vedere grande perché noi siamo in quattro e che sia in grado di farmi anche la pizza vedremo cosa riesco a fare vedremo quindi occhio per il black friday che è tra pochissimo per te che oggi è 18 per me è 13 però per te oggi è 18 quindi occhio anche al black friday e basta quindi nel tuo supermercato in zona approfitta delle promozioni quelle per risparmiare e finito passato natale troverai sicuramente i se vuoi aspettare se vuoi aspettare vuoi risparmiare ancora di più su quello che è natale che già mai già già hai qualcosa o magari ti manca qualcosa ma vuoi aspettare ancora di più ti consiglio per prendere le decorazioni di natale presepe e albero di aspettare dopo natale dopo natale intendo magari già la fine dell'anno perché essendo passato natale tantissime cose vengono super super scontate idem per halloween e idem per tutte le altre feste pasqua carnevale chi più ne ha più ne metta se vuoi risparmiare preverti degli addobbi per l'anno successivo il mio consiglio personale se già ce li hai e non devi incominciare da zero è sicuramente aspettare post le feste anche per quello che riguarda il vestiario estivo e il vestiario invernale perché finito passato il periodo freddo o periodo caldo trovi tantissime cose super super scontate e lì sì che fai dei grandi affari quindi io ti farò sicuramente vedere se quest'anno riesco a comprare dei giocattoli e riesco ad avere buoni quello del bene ti farò vedere se s lunga sarà più conveniente andrò da s lunga non credo di andare da iper perché non conviene sinceramente la percentuale di sconto è molto più bassa anche se è immediata quindi carrellata grandissima come ogni anno per natale black friday per rinfrescarci un po la memoria tutti quanti la stessa cosa della scontistica per gli elettrodomestici la trovi anche da nei supermercati vari quindi eurospin aldi lidl carfori per bla 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 tutti i supermercati perché cercano comunque di buttare fuori anche il vecchio il vecchio ovviamente intendo non vecchi nei senso rotti o usurati ma intendo comunque proprio elettrodomestici che magari sono del modello dell'anno scorso perché bene sì la moda cambia anche con gli elettrodomestici e con immobili ebbene sì quindi se devi rifarti bagno qualcosa aspetta magari fine volantino eccetera eccetera e lì anche gli risparmi su su varie cose a tra l'altro mi è arrivata in cassetta postale la il volantino di mondo convenienza quindi mondo convenienza meson du monde e tutto quello ikea adesso è un momento buono per comprare quello che ti serve per la casa tra l'altro ikea ogni anno che mi sono dimenticata meno male che mi sono ricordata ikea ogni anno dà la possibilità di comprare l'albero di natale e di riportarlo post feste ti verrà rimborsato spero che anche quest'anno si faccia ti verrà rimborsato quello che spendi nell'albero di natale non so se già iniziata penso che debba iniziare a breve idem quando ci sarà comunque saldi per le coperte invernali eccetera se tu porti una tua coperta ti verrà erogato un buono per comprare un'altra coperta e la coperta te la scontano ti danno questo buono se la coperta è in buono stato perché le coperte quelle usate che tu magari non vuoi più per cambio quello che te pare ti sei scocciato del colore o comunque non ti piace più eccetera eccetera e quindi ne vuoi comprare un'altra quindi ti danno un buono su una coperta usata per comprarne un'altra quella che tu porti in negozio verrà donata in beneficenza ottimo e l'ha fatto dell'albero di natale che ti viene restituito dopo feste quello che tu hai speso è proprio per evitare di comprare altra plastica altro albero di plastica e di sboscare gli alberi di natale quindi ottime promozioni io per ora ti saluto la scontistica degli addobbi vale anche per gli altri supermercati quelli che ovviamente tipo carpool li sconteranno sicuramente ti mando un bacione grandissimo se ci sono aggiornamenti o tu hai delle cose in più da scrivermi scrive meno pure nei commenti che mi fa piacere leggere i tuoi commenti se ho delle cose succulente lo vedrai nei prossimi video sempre in tema natalizio non farò te lo dico di già i vlog quelli di natale un giorno non c'ho tempo non ho tempo la mia vita è sempre di corsa quindi un bacione che da grandissimo anche da dori che sa a cucca come si deve nei parti noi dai miei gatti che ogni tanto li senti nella lettiera dai miei figli e ci vediamo il prossimo video ciao